Come ho detto prima è un libro pratico, concreto, utile, ben scritto, con chiarezza sia per quanto riguarda gli aspetti tecnici sia per quanto riguarda gli aspetti sostanziali umani. E' un libro nuovo, sicuramente è un libro che non si trova, che dà sicuramente una svolta a una materia molto complicata e anche ostica da affrontare. Lo consiglio soprattutto a chi intraprende questa professione giudiziaria, avvocati, giudici o consulenti. Perché questo titolo è il mare con il cucchiaino? Secondo lei è qualcosa di troppo grande? Perché in questo momento le crisi di impresa sono veramente aumentate in maniera esponenziale, quindi affrontarle significa tentare di svolgere il mare con cucchiaino.